il luca loti era un grandissimo gol numero mamma che gol semifinale Sunday Cup che vede affrontarsi l'atletico Mazzini contro i Blue Island squadre che ora si schiereranno al centro del campo per il saluto al pubblico del Kennedy Stadium ora le squadre che passano a darsi il 5 e che poi si schiereranno a parti invertite del campo per dare inizio a questo match ad arbitrare questo incontro l'albitro internazionale Tyson che ora chiamerà i due capitani a sé per il sorteggio per la palla e per il campo sorteggiati palla e campo possiamo dare inizio al match un saluto da Boatenghi primo tempo tra Atletico Mazzini e Blue Island per questa semifinale di torneo Sunday Cup risultato ancora vivo risultato ancora vivo Grazie a tutti 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 No stress Grazie a tutti 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 Grazie a tutti